Alla mio 3 farò una imitazione di Matteo HS, questo youtuber che è andato al Cerbero Podcast. Ma bando alle ciance 1, 2, 3. Ciao ragazzi, sono stato bannato per 24 ore. Che cosa è successo? Mi sono ritrovato bloccato e bannato dal sito. Io stavo per i fatti miei quando un amico mi ha contattato e mi ha detto Matteo Matteo, vai sulle tue email. Sono andato sulle mie email e ho pensato che cazzo è successo? Ho visto che sono stato bannato dal sito. Ragazzi, non sono triste, non sono deluso, sono proprio incassato. Non mi aspettavo proprio una cosa del genere, anche perché ho detto Ma che cazzo ho fatto io? Ho fatto qualcosa che non va? Insomma, sono rimasto malissimo, sono rimasto amareggiato ragazzi. Ora, io vi chiedo, ma com'è possibile che uno come me, uno che è conosciuto, venga bannato così, senza aver fatto un cazzo? Ma come lo spiegate voi? Come te lo spieghi, eh? Io sono rimasto male, sono rimasto amareggiato. E ho detto, vabbè, andiamo avanti, andiamo avanti, vediamo quello che succederà. Intanto, però, dentro di me è cresciuta la voglia di diri falsa, la voglia di dire Ma andatenevi tutti a fanculo. Però, ho detto, lascio perdere, perché dopo, se no, sono cazzi miei. Però, ragazzi, io sono veramente amareggiato, deluso, sconfitto e rattristato, ok? Quindi, se vi posso dire una cosa, è quella di dirmi Aiutatemi, datemi una mano, io voglio tornare sul sito, perché per 24 ore sono stato bannato. Che cazzo. Ciao, da Matteo Cassi Ho fatto questa invitazione, spero che vi sia piaciuta. Non sono stato molto bravo, però penso di essere entrato almeno al 60% del timbro di voce di questo ragazzo, va bene? Questo video non è una presa in giro, questo video non è un video di diffamazione, di offesa, o una maniera per direggiarlo, ma semplicemente un video omaggio, un video a lui dedicato come forma di ammirazione e stima, ok? Ha più di 100.000 iscritti, se non erro, e quindi tanti, sono tanti, e complimenti perché se li merita tutti. Vi ricordo che, se non ho visto male, è stato anche nel salotto di Kokeshi, la fidanzata attuale di Fabio Rovazzi. Però, non so se ho detto una cosa giusta, se non erro, aveva anche uno smoking addosso. Quel video l'ho visto e mi è piaciuto molto. Ok, grazie ad Aleandro, conosciuto italiano, complimenti a Matteo Hesse, al prossimo video, ciao!